Fino a 14 vuoi fare il calciatore, poi quando smesti di fare sport e fai quella vita, diciamo, da parchetto, chi vuoi diventare? Perché un sogno ce l'hai sempre. Sì, diciamo che a Roma… Un mito ce l'hai sempre. Un vero e proprio mito no, però a Roma magari, esempio, c'è la più figa del quartiere, comunque stava con magari quello che spacciava, non so come dire, no? Con la macchina bella o col calciatore, comunque insomma con un certo tipo, quindi prendevamo molto quello come esempio, comunque vedevamo il ragazzetto che magari era quello che vendeva più forte di tutti, col Mercedes, con l'orologio, con la figa, no? Con la roba là, quindi avevamo quell'esempio. Cioè quindi la meta era, ma hai parlato di due persone abbienti, nel senso facoltose, una in una strada diversa dall'altra, quindi una facendo un lavoro legale, il calciatore, e l'altro facendo un lavoro illegale, lo spacciatore o qualsiasi altra roba. Però tutti e due attiravano l'attenzione della donna bella e il tuo obiettivo era quello. Sì, non la donna, ma insomma la bella c'è… La bella vita. La bella vita, sì, che poi…